buongiorno a voi e bentornati sul mio canale questo è un lavoro in corso d'opera in questo momento devo dipingere una foglia e voglio farvi vedere come la dipingo come vedete ho già tanti colori sulla tavolozza bianco giallo marrone chiaro il nero che non mi serve ci avevo fatto un'altra cosa il blu e il rosso non mischio i colori alla perfezione ma faccio più o meno un pastrocchio ma su questo pastrocchio sono stata attenta a tenere il colore giallo e blu che quello con cui creo il verde sulla punta in modo tale che guardate nel momento in cui io vado a passare il pennello il verde mi rimane tutto sulla punta del pennello e direte ma scusa il verde non c'è no il verde non c'è prendo prima bianco poi giallo poi blu e guardate faccio di nuovo ecco qui il verde nella parte interna c'è il giallo nella parte esterna c'è il verde vedete sempre verde 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 vi faccio di nuovo bianco giallo e blu vado a fare adesso qui osservate vedete il pennello un pennello 12 molto grande e mi permette di dipingere grandi superfici in questo caso ruoto il pennello dall'altro lato e riesco a fare il bordo della foglia anche dall'altro lato vedete il mio pennello com'è il colore scuro si trova solo su questa punta quindi faccio di nuovo prendo bianco giallo questa volta prendo il blu e rosso di seguito cosa succede succede adesso che il colore cambia infatti guardate l'ultimo colore rosso che già finito ti prendo di nuovo il giallo il blu e il rosso e con questo nuovo colore riuscirò adesso a fare un effetto autunnale sulla base verde che avevo messo prima vi prendo di nuovo giallo e rosso non prendete grandi quantità di colori perché altrimenti questo processo di pittura cambia e non è più questa tecnica guardate adesso ripasso ancora sfumo il colore questa volta non sto usando il pennello tenuto in posizioni verticali quindi di taglio ma lo uso di piatto vedete rifaccio di nuovo una punta di di giallo presa in angolo di pennello una punta di rosso e guardate qui faccio ruotare il pennello e creo gli spigoli di queste foglie vedete li faccio di nuovo bianco giallo rosso e prosegue adesso qui devo girare intorno guardate il pennello utilizzato così è meraviglioso perché mi permette di lavorare molto velocemente così vedete dando il bordo netto all'esterno quindi non ho bisogno di prendere un pennello a punta per fare il bordo e poi il pennello grande per sfumare ma faccio in automatico guardate quanta sfumatura c'è al centro adesso faccio ancora sto lavorando con i colori autunnali posso prendere un po di rosso e un po di marrone guardate vedete è la punta questa che mi fa avere questo colore così facile da spalmare guardate qui giro intorno vedete posso poi colorare con un colore che contiene più bianco l'interno in modo tale che possa adesso prendere il giallo e andare con il blu in contrasto per fare il bordo interno perché non ho usato il rosso perché se lo faccio di verde come sto facendo riesco ad ottenere un contrasto maggiore guardate vedete cosa faccio sfumo questo colore verdastro verso l'interno e in questo modo sono riuscita a fare tutta la piega della foglia vi ricordo che se non sapete disegnare avete la possibilità di acquistare uno dei miei album ne ho pubblicati molti e ognuno di loro è dedicato a un argomento diverso ma di foglie della vita ne troverete molte in tutti gli album vi lascio il link in descrizione sotto al video e quindi vado a intensificare questo effetto adesso immaginate che faccio quest'altro bagno un po il pennello prendo prima il bianco strofinando vedete guardate trofino così quindi colore lo prendo solo con la punta poi con lo stesso movimento prendo il giallo poi prendo il blu ogni volta decido per un colore diverso quindi mi viene fuori il verde e io non l'ho creato sulla tavolozza il verde osservate di solito vedete pittori che spalmano il colore nel piattino per crearne uno nuovo e poi lo usano io invece lo lascio fare al pennello adesso vado a creare i spigoli delle punte di queste foglie così adesso uso il pennello di piatto quindi non mi preoccupo di prendere il colore con la punta come vedete ma lo prendo guardate in questo modo è lo spalmo verso il centro della foglia in modo tale da avere delle sfumature più chiare più luminose lascio la parte più luminosa al centro e le parti più scure sui fianchi poi ognuno può essere libero di farlo al contrario nel qual caso dovrete utilizzare un colore più chiaro per realizzare il bordo esterno vedete come si è colorata bene questa foglia adesso guardate faccio di nuovo ancora qui sono data di colori ancora più scuro guardate prendo solo il rosso mi si è macchiato perché perché non ho preso solo con la punta non mi sono accorta ma fa nulla lo sfumiamo adesso prendo giallo quando devo fare le parti molto scuri il bianco non va preso mi raccomando e vado a fare una piega anche da quest'altra parte vedete qui il colore ne ha preso poco si vede ancora la stoffa sotto e quindi vado a coprire ed infine manca il bordo qui siccome il colore lì mi serve scuro lascio perdere il bianco in modo tale che vedete viene subito l'effetto senza doverci lavorare ore bene adesso uso lo stesso colore per approfondire questa nervatura ne faccio una anche che va da quest'altra parte aggiungo un po di giallo per non farlo troppo troppo scuro una ma qui una ma qui una ma qui e possiamo anche fare quelle intermedie tutto con la punta del pennello vedete guardate il colore sta qui solo con questa punta prendo il colore questo mi permette di non cambiare mai pennello tra parentesi utilizzare il pennello piatto in questo modo mi dà la possibilità di spingere il pennello vedete cosa che non posso fare col pennello tondo la punta flette il segno a dove gli pare dovete stare a mantenere con estrema delicatezza il pennello quando si tratta di un pennello tondo poi posso rimettere qualche luce qui e là se mi piace avete notato che da quando ho iniziato non ho mai lavato il pennello perché perché qui non avevo problemi di colori puri perché qui sono ripetendo la foglia autunnale e quindi i colori si li ho lasciati miscelare tra di loro questo è il picciolo della foglia che va a legarsi con questa ma gli passa sotto bene questo lavoro è finito spero che sia piaciuto soprattutto spero vi sia stato utile e vi ricordo all'appuntamento della settimana prossima lunedì sempre alle ore 21 grazie e vi auguro una serena giornata